Musica Benvenuti a questa nuova edizione di Licata News. Prende vita la georeferenziazione dei beni confiscati alla mafia e acquisiti al patrimonio comunale. Dando seguito alla direttiva del commissario straordinario Maria Grazia Brandara, sono stati localizzati e mappati i primi immobili. Vediamo. Applicando la direttiva emessa dal commissario Maria Grazia Brandara, il Comune ha avviato la georeferenziazione dei beni confiscati alla criminalità e presenti sul territorio comunale. La direttiva e il successivo avvio della mappatura degli immobili acquisiti al patrimonio comunale prendono le mosse da un'iniziativa dell'Associazione a testa alta, che nei mesi scorsi, con forza, aveva chiesto che fosse fatta chiarezza sul patrimonio di ex proprietà della criminalità organizzata e oggi nella disponibilità dell'ente. La georeferenziazione è stata avviata utilizzando immagini satellitari, sul cui campo sono stati segnati i beni, oggi di proprietà comunale. I primi beni ad essere localizzati sono stati un edificio sito in corso Brasile e un terreno in contrada Passarello. La banca dati accessibile a tutti, si legge in una nota di a testa alta, segna l'avvio di un'attività di studio e analisi territoriale propedeutica al riutilizzo sociale dei beni e rappresenta un'importantissima occasione di buon governo che può entrare a far parte sia dei programmi di pianificazione territoriale, sia di quelli finanziari, evitando gli errori del passato. Una mappa che, una volta completata e aggiornata con le recenti acquisizioni al patrimonio comunale, consentirà alla cittadinanza di comprendere la profondità dell'infiltrazione mafiosa nella nostra città e al contempo la resistenza messa in campo da associazioni come la nostra nella promozione della legalità. Prima del nostro esposto, il comune di Licata non aveva neppure reso pubblico un elenco di tali beni in violazione del codice antimafia. Queste sono conquiste di civiltà di tutti, conquiste di cui andare veramente fieri. C'è anche il commento del commissario straordinario Brandara. Sono proprio contenta per aver dato un contributo concreto per ottenere questo risultato. La direttiva agli uffici per la geolocalizzazione dei beni confiscati. La cronaca adesso. Un matrimonio giunto ormai al capolinea e una serie di inutili tentativi di lui di recuperare quel rapporto. Ci sarebbe tutto questo dietro all'omicidio suicidio avvenuto all'interno di un'abitazione popolare in via Alessio Di Giovanni, nel popoloso quartiere di Fontanelle ad Agrigento. La crisi della coppia era già in fase avanzata. A sparare a Fontanelle è stato Giorgio Luparello, 57 anni, titolare di un'impresa di pulizia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Agrigento hanno ormai pochi dubbi. Sarebbe stato l'uomo ad aprire il fuoco contro la moglie, Patrizia Moscato, 48 anni, prima di suicidarsi. Nella serata di ieri la polizia ha proceduto al fermo di un indiziato di delitto di tre cittadini extracomunitari di nazionalità tunisina, in quanto ritenuti gli scafisti che il giorno di Pasqua hanno favorito l'arrivo a Lampedusa di 334 immigrati di varia nazionalità. Le indagini sono state condotte dal personale della squadra mobile di Agrigento e hanno consentito di raccogliere elementi indiziali a carico di due uomini di 29 anni e uno di 28 anni, ritenuti responsabili in concorso con altri soggetti in corso di identificazione, di avere procurato illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano degli immigrati. Cambiamo argomento. Si è svolta ieri come previsto la riunione presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di Roma per discutere di Parco Eolico Offshore a largo della costa tra Gela e Licata. Ascoltiamo in questa intervista Tony Licata. Parco Eolico Offshore, ieri si è tenuta la programmata audizione in Ministero. Tony Licata era presente naturalmente anche il Comitato Nopeos accompagnato dal Presidente del Consiglio Comunale Saverio Platamone. Che tipo di impressioni avete avuto? Intanto la delegazione era mista, istituzionale e sociale. Istituzionale perché accanto c'era il Presidente del Consiglio perché il Commissario improcrastinabilmente ha avuto un impegno all'ultimo momento per cui non è potuta venire. E però c'era Saverio Platamone in qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Licata e io nella qualità di Presidente del Comitato Difende di Licata. Abbiamo premesso che andavamo in rappresentanza del coordinamento Nopeos dei cinque comuni, delle due province e dei tre comitati civici Nopeos. E onestamente l'impressione che abbiamo avuto non è stata delle migliori perché in pratica malgrado noi avessimo rappresentato tutta una serie di inadempienze, di non verità, di manchevolezze nella istruttoria da parte del proponente, del rischio di andare a finire sotto infrazione dell'Unione Europea, della mancanza della stessa Commissione perché avrebbe dovuto verificare le cose scritte nella relazione del proponente e invece non l'ha fatto. Malgrado ciò abbiamo visto che c'erano dei tentennamenti, c'erano delle difficoltà, non da poco, per cui la cosa ci lascia a quanto dispiaciuti e non abbiamo intenzione. E glielo abbiamo detto chiaramente perché c'erano i rappresentanti della proponente, la Mediterranea e la Wind of Fish Shore, sappiate che se passate al Tar, noi vi porteremo al Consiglio di Stato, se passate al Consiglio di Stato vi porteremo alla Corte di Giustizia Europea. Ma sappiate che noi non intendiamo retrocedere da questa nostra decisione perché troppi interessi della nostra collettività sono in gioco. Si è svolta nella serata di ieri l'inaugurazione della sede del Comitato elettorale del candidato sindaco Angelo Biondi, presenti amici e simpatizzanti che hanno affollato la sede di Corso Serrovira. È stato evidenziato che l'ingegnere Roberto Di Cara appoggerà il progetto politico di Angelo Biondi. Sono stati trattati i punti più salienti del programma elettorale del candidato. Al tavolo, insieme ad Angelo Biondi, i consiglieri di Oralicata Lab, Violetta Callea, Armando Sorce e Angelo Iacona. Presente anche una delegazione di agricoltori del Comitato, insieme per far ripartire l'icata. L'Aggiunta Crocetta ha approvato ieri sera il bilancio. Dopo la pubblicazione della delibera, entro 48 ore, il documento contabile sarà trasmesso all'Assemblea regionale. Il governo è riuscito a coprire il buco da 3,2 miliardi di euro grazie agli impegni assunti dallo Stato, anche se mancano le ratifiche formali. In Commissione Bilancio dell'Arse è già depositata la finanziaria, il cui esame era stato sospeso in attesa della trasmissione del bilancio. E sono stati ufficializzati i dati dell'operazione di controllo del territorio agrigentino da parte della Polizia Stradale di Agrigento, impegnata nel weekend di Pasqua e Pasquetta, i particolari in questo servizio di Lania Bona. Sono stati resi noti i dati dell'operazione di controllo effettuata nel weekend di Pasqua e Pasquetta dagli agenti della Polizia Stradale di Agrigento, diretti dal commissario capo Andrea Morreale, impegnati con posti di controllo e assistenza agli automobilisti in tutto il territorio della provincia di Agrigento. Dal venerdì santo a lunedì di Pasquetta sono state impiegate 47 pattuglie che, durante i controlli alla circolazione stradale e agli automobilisti, hanno decurtato complessivamente 99 punti dalle patenti. 108 le infrazioni al codice della strada contestate, di cui 10 per le auto sprovviste di assicurazione e 11 per mancata revisione. Ritirate 7 patenti di guida e 10 carte di circolazione. 17 invece i soccorsi ad automobilisti in difficoltà, 371 le persone controllate durante i giorni di festa. Sono state 5 le persone sorprese in stato di ebrezza mentre erano alla guida delle proprie autovetture. Due ad Agrigento, due a Licata e una sciacca, tutti sorpresi tra le notti di sabato e domenica. In particolare uno dei due denunciati ad Agrigento e di nazionalità romena e al momento del controllo era in auto con altri tre connazionali, tutti completamente ubriachi. La polizia di Palma di Montechiaro, in esecuzione dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale messa dall'ufficio dell'Egip e del Tribunale di Agrigento, ha sottoposto a Giovanni Lauricella, 37 anni, palmese, alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poiché è accusato di aver compiuto una rapina a mano armata nei confronti di un venditore ambulante del luogo. I fatti risalgono al mese di febbraio scorso, allora quando il commerciante, all'atto della chiusura della propria attività lavorativa di venditore di panini, sarebbe stato avvicinato dall'Auricella, il quale, minacciandolo con un coltello, si è fatto consegnare l'incasso della serata a montante a 120 euro. E a ribera i carabinieri della locale tenenza hanno tratto in arresto Rosanna Magro, 34enne del luogo, che ieri sera in Via Pasciuta aveva aggredito, accoltellandola più volte, una sedicenne del posto, provocando le lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari per individuare le motivazioni che hanno indotto la donna a compiere l'aggressione. Quest'ultima ora si trova presso la sua abitazione, agli arresti domiciliari. Torniamo a Licata. A breve saranno avviati gli interventi per rendere più pulita e decorosa la città. Il commissario straordinario Brandara ha già attivato gli uffici comunali per effettuare gli interventi necessari, tra cui la deratizzazione, la disinfestazione e la scerbatura. Il servizio è di Lania Bono. Con l'approssimarsi della stagione estiva si mette in moto la macchina organizzativa del comune di Licata per rendere pulita e più accogliente la città. Il commissario straordinario, Maria Grazia Brandara, infatti, ha già attivato gli uffici comunali per effettuare tutti gli interventi necessari per il decoro urbano. Il commissario ha già provveduto a contattare i competenti uffici comunali perché avvino le procedure e l'adozione dei provvedimenti per dare inizio ai lavori di disinfestazione, derattizzazione, scerbatura, non solo del centro storico ma di tutto quanto il centro abitato ed in particolare degli ingressi della città e dei luoghi maggiormente frequentati dai turisti, quali la zona porto, le strade di accesso alle spiagge, le zone archeologiche di Monte Sant'Angelo, il cimitero monumentale dei Cappuccini, le vie Palma e Gela. A giorni gli operatori del Dipartimento Lavori Pubblici daranno inizio ai lavori di disinfestazione attraverso il arvicida, mentre a richiesta è già possibile intervenire per la derattizzazione. Il dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari è stato incaricato di sollecitare la dedalo ambiente a garantire la pulizia del centro abitato con l'eliminazione di tutte le erbacce presenti ai bordi delle strade, dei marciapiedi e degli spazi liberi. Il commissario Brandara ha altresì incaricato il dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici Urbanistica a predisporre un servizio di manutenzione e pulizia di tutte le aiuole presenti nel territorio comunale, poste all'interno e agli ingressi della città. Inoltre, nei giorni scorsi, gli agenti di polizia municipale hanno provveduto a difidare proprietari dei terreni interclusi ricadenti all'interno dell'abitato, tenuti in cattivo stato di manutenzione o degradati dal punto di vista igienico-sanitario, alla pulizia e alla bonifica e alla collocazione della recinzione laddove mancante. In caso di inottemperanza, i proprietari dei terreni verranno sanzionati, secondo quanto previsto, dalle norme vigenti in materia di igiene e salute. Il commissario straordinario, Maria Grazia Brandara, si appella altresì al senso civico dei singoli cittadini, ai quali completa l'onere di collaborare per il decoro della città dedicata perché sia mantenuta bene, ordinata e pronta ad accogliere quanti decideranno di trascorrere le ferie a Licata. L'ufficio carico della provincia regionale di Agrigento, oggi Libero Consorzio, ha giudicato l'appalto per il servizio di manutenzione evolutiva dei server del sistema informatico del Libero Consorzio. L'appalto, il cui bando era stato pubblicato sul sito internet dell'ente per un importo complessivo di 62 mila euro più IVA, è stato aggiudicato provvisoriamente al raggruppamento temporaneo di imprese ATR e SRL con sede a Gravina di Catania, che ha offerto un ribasso del 14,61% per un importo contrattuale pari a 53 mila euro. È andata deserta invece la gara per l'affidamento del servizio di rifezione scolastica per le scuole dell'Ombligo di Favara. E sarà celebrata il prossimo 13 maggio la gara d'appalto per la messa in sicurezza, la demolizione e il ripristino di una porzione del muro di cinta del giardino botanico della provincia regionale di Agrigento, dalla quale si erano staccati pezzi di conci di tufo con conseguente chiusura del tratto sottostante della via Demetra e deviazione al traffico. Il distacco, che non ha provocato peraltro danni a persone o cose, ma solo qualche inevitabile disagio alla circolazione dei mezzi, in seguito alla deviazione, era avvenuto a causa delle forti precipitazioni dei mesi scorsi. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Al centro commerciale Il Porto arriva Sam, il pompiere. Vieni a conoscerlo domenica 26 aprile dalle 17 alle 19 e dalle 19 alle 20. Ti aspettiamo! Questo programma è offerto da Da Cader di Gambino è arrivato il sottoprezzo su tutta la merce Cader Alicata Sportline in via Palma 27 a Alicata Domani è Alicata bel tempo con sole splendente per l'intera giornata non sono previste piogge durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18 gradi la minima di 9 gradi i venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord-nord-est al pomeriggio deboli e proverranno da sud-ovest mare poco mosso umidità oscillante tra il 68 e l'87% questo programma vi è stato presentato da Nuova è il sombrero strada statale 115 contrada a Saffarello Alicata Dai Fratello Antona grande la qualità grande la scelta di piccolo c'è soltanto il prezzo scusate se poco Seconda parte del nostro telegiornale dal primo aprile sono stati installati presso i poli ambulatori e gli ospedali della provincia di Agrigento e i post bancari per il pagamento del ticket sanitario il servizio di Dania Bona Niente più lunghe file ed estenuanti attese dagli utenti per il pagamento dei ticket sanitari dal primo di aprile infatti sono entrati in funzione operativamente presso i principali poli ambulatori della provincia e presso gli ospedali i post bancari il nuovo strumento di pagamento elettronico saranno 18 i post che verranno installati presso ospedali e poli ambulatori della provincia agrigentina dunque i pagamenti delle visite prenotate si potranno effettuare ai poli ambulatori solo con carte di credito o bancomat ponendo fine alle lunghe code che gli utenti erano costretti a sopportare per il pagamento del ticket sanitario a comunicare l'entrata in funzione dei post bancari è stato il direttore generale dell'asp di Agrigento Salvatore Ficarra il quale ha sottolineato che ciò è stato possibile grazie ad una convenzione tra l'asp di Agrigento e poste italiane firmata già il 7 febbraio scorso l'accordo consentirà lo snellimento delle file agli sportelli di pagamento prima di effettuare la visita prenotata d'altro canto la riorganizzazione dei poli ambulatori è una tra le priorità che il direttore dell'asp di Agrigento Ficarra ha messo in atto per rispondere ai bisogni dell'utenza del territorio agrigentino il nuovo strumento di pagamento non appena entrerà a regime in tutti gli altri presidi consentirà di eliminare definitivamente le lunghe destenuanti attese dell'utenza per il pagamento del ticket il direttore sanitario dell'asp di Agrigento ha sottolineato che altre iniziative sono in corso con poste italiane che consentiranno agli utenti un più veloce di sbrigo delle attuali pratiche sanitarie e amministrative con notevole risparmio di tempo e per l'asp un migliore utilizzo delle risorse umane ed economiche dal 29 aprile nella sagrestia della cattedrale l'ufficio beni culturali ecclesiastici e il museo diocesano proporranno l'esposizione di una reliquia della sacra sindone e di un telo sindonico risalente alla metà del 1600 l'arcidiocesi di Agrigento si appresta a vivere un momento spirituale intenso la mostra sarà curata da Domenica Brancato consulente storico dell'arte e la fruizione sarà affidata all'associazione Ecclesia Viva in provincia ci sarà la possibilità di visitare la copia della sindone a misura reale che è custodita nel collegio di Maria di Palma di Montechiaro la rete fra trappole e opportunità e questo è il tema dell'incontro che si svolgerà presso l'aula magna dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII oggi pomeriggio con inizio alle ore 15 e 30 si tratta della giornata conclusiva del progetto sul bullismo dell'istituto di cui è dirigente il professor Salvatore Lopresti a cui sono stati invitati genitori docenti e cittadini e cittadine interessati a conoscere e prevenire il fenomeno del cyberbullismo del sexting e dei pericoli della rete dopo il saluto del dirigente Lopresti previsto un intervento introduttivo della professoressa Giuseppina Guigliotte subito dopo gli interventi della dottoressa Margherita Truppiano della segretaria particolare dell'assessore all'istruzione della regione siciliana e del dottor Flavio Pizzio psicologo a tenere la relazione sarà il professor Francesco Pira sociologo e docente di comunicazione autore di numerose pubblicazioni e coordinatore di ricerche sul tema Confesercenti Sicilia sostiene la candidatura di Agrigento a Capitale della Cultura per gli anni 2016 e 2017 e plaudi all'iniziativa del commissario straordinario del comune di Agrigento Luciana Giammanco che ha sottoscritto la domanda di candidatura a seguito del bando predisposto dal ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la designazione di una città italiana al prestigioso titolo chiudiamo con lo sport tennis Luca Potenza prenderà parte al torneo internazionale di Tirana in Albania per il tennista licatese è arrivata la convocazione in nazionale il servizio non smette di stupire il tennista licatese Luca Potenza il giovane atleta attualmente in forza al circolo di Aici Castello è stato convocato per prendere parte al torneo internazionale di Tirana Luca come prima esperienza ha ricevuto da parte della federazione italiana la wild card per accedere al tabellone principale saltando così le fasi di qualificazione ieri mattina il tecnico nazionale under 16 Stefano Pescosollido ha contattato il maestro di Luca riferendo che l'atleta si unirà alla team della nazionale italiana la notizia è stata accolta con grandissima gioia e soddisfazione dallo staff tecnico del circolo tennis di Aici Castello per il quale Luca è tesserato e dove fino al 19 aprile lavoreranno per poterlo preparare al meglio il tecnico Rizzo che segue Luca ha evidenziato di ritenersi soddisfatto dell'anno che è iniziato con le due convocazioni precedenti questa grande opportunità non sta ovviamente nella pelle il prodigio licatese della racchetta inutile dire che si tratta di un traguardo incredibile le sue parole a cui dovrò essere bravo a farmi trovare pronto perché sono consapevole delle difficoltà e del livello elevato degli avversari con cui mi andrò a confrontare elogio a Luca sono arrivati anche dal presidente Pippo Gellura del tennis club Sant'Angelo per cui Luca è stato tesserato fino a pochi mesi fa e dall'istruttore Francesco Pedani va sottolineato anche come Luca Potenza dal 2 al 6 marzo scorso è stato convocato dalla federazione in accordo con il comitato regionale siciliano per un raduno tecnico riservato agli under 16 ospitato al centro di preparazione olimpica di Tirrenia insomma Luca Potenza sembra davvero essere entrato nel circuito del tennis che conta e gode di una grande stima tra i selezionatori nazionali c'è da ritenere a ragione che si tratta di uno degli under 16 più forti d'Italia con il giusto vanto anche per Licata sua città d'origine era il nostro ultimo servizio grazie per la cortesia attenzione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti